So che ci sono anche una serie di problemi, ne abbiamo parlato responsabile del personale insieme anche a parte dei lavoratori, insomma l'impegno del governo già con la legge navale è un impegno importante, abbiamo preso ovviamente, abbiamo ascoltato quali erano un po' le riflessioni, le osservazioni e il governo è comunque presente, ripeto, l'impegno già con la legge navale è un impegno importante per i cantieri di Castellammare e questo è una testimonianza concreta. In termini politici ho la giacchetta dell'amico del PD che cerca di dare una mano ai candidati che come Partito Democratico stiamo mettendo in campo in queste amministrative, torno uno di questo, vengo da un incontro a Benevento, insomma il Partito Democratico c'è, sta mettendo in campo persone di valore, programmi e progetti anche più importanti e poi insomma alle amministrazioni del territorio in generale il governo è sempre vicino e venire in queste occasioni è importante sia per campagna elettorale, per far campagna elettorale come membro di partito ma anche per ascoltare le esigenze che il territorio ci pone negli incontri come questi. La presenza oggi di Luca Lotti e del presidente del Luca era la testimonianza di quello che abbiamo detto nei primi dieci giorni di campagna elettorale. Qui il governo nazionale e il governo regionale hanno investito sulla mia persona, su una squadra, su una classe dirigente, sul PD, su una coalizione vincente, su una coalizione che deve portare a termine una serie di opere. Noi oggi dobbiamo fare, così come ci ha indicato il presidente del Luca, abbiamo il dovere di portare a compimento le opere pubbliche che sono in cantiere e questo è l'imprimatur che ci viene da questa serata e l'imprimatur che ci dà questa campagna elettorale. Castellammare è una delle realtà importanti di questa regione, per tante ragioni, storiche ma anche attuali. Siamo qui per confermare un impegno straordinario del governo e della regione, in primo luogo sulla cantieristica. Veniamo da mesi di discussione per portare a Castellammare il più grande investimento navale che farà la maria militare italiana, una nave duale che parte la prossima primavera. Devo dire sinceramente che Fincantieri non ha mantenuto tutti gli impegni, perché gli impegni erano quelli di fare piccole lavorazioni da qui a primavera prossima. Poi siamo reduci da una bella inaugurazione della funivia di Montefaito, Castellammare e io sono particolarmente contento perché abbiamo dimostrato che sappiamo mantenere la parola che abbiamo dato. Ho annunciato che ci sarà un investimento importante, credo una ventina di milioni di euro, sulla stazione della Circus Vesuviana e quindi veramente da Castellammare destiniamo risorse significative. Poi dobbiamo completare il programma di opere pubbliche e qui diciamo la verità, abbiamo un po' dormito in piedi. Io ogni volta che vengo e trovo questo lungomare con la recinzione, il cantiere aperto, e che così, vorremmo completare il lavoro prima del 3.000.